Anche quest'anno si è celebrato il tradizionale cammino dal Santuario dei Santi Vittore e Corona alla Madonna del Grappa. Un centinaio ai partecipanti all'evento, che ha preso il via sabato 31 luglio dalla Basilica ai piedi del Monte Miesna, attorno alle 6 la partenza dei camminatori che hanno raggiunto le consuete tappe del percorso, da segnalare l'incontro a Seren del Grappa presso la Fontana dell'Acqua della Salute con il Vescovo Emerito Monsignor Giuseppe Andric, da sempre fervente sostenitore dell'iniziativa. Sono presente per dire una parola di benedizione a tutti coloro che vi partecipano e che tengono viva questa tradizione, ma anche per l'inaugurazione e benedizione di una statua, immagine, ricordo e simbolo di quello che è stato il periodo che noi speriamo di veder presto tramontato e tramontato con insegnamenti positivi per il futuro. In serata la sosta a Malga Bocchette, il giorno dopo, domenica 1 agosto, il gruppo è ripartito alla volta del Sacrario di Cimagrappa, dove si è tenuta l'annuale cerimonia in onore dei caduti della Grande Guerra nel centenario del Milite Ignoto. Come sempre, grande soddisfazione da parte di tutti i partecipanti al cammino, un'iniziativa che quest'anno assume un significato del tutto particolare e che è servita per riprendere il contatto con la natura e il creato, attraverso il silenzio, il movimento e la contemplazione.